Papa Francesco è arrivato in Polonia a Cracovia per una giornata mondiale della gioventù nel segno di San Giovanni Paolo II, atterrando nell'aeroporto internazionale di Balize, che porta il nome del grande pontefice per 15 anni arcivescovo dell'antica capitale del regno polacco. Accolto dal Presidente della Repubblica Andrei Duda e dall'arcivescovo di Cracovia, Cardinal Stanislav Givis, il Papa ha presto raggiunto in Papamobile il Vave, il storico cuore della città, accompagnato dall'entusiasmo di migliaia di giovani e fedeli di Cracovia lungo le strade, ed entrato nel cortile d'onore del Castello Reale. Davanti alle autorità politiche e rappresentanti della società civile e al corpo diplomatico, Francesco ha ricordato che la memoria contraddistingue il popolo polacco, sottolineando di essere sempre stato impressionato dal senso della storia di San Giovanni Paolo II, ed ha ringraziato Dio perché la Polonia, nella sua storia recente, ha fatto prevalere la sua memoria buona, celebrando i 50 anni del perdono reciprocamente offerto e ricevuto tra i vescovi polacchi e tedeschi dopo la Seconda Guerra Mondiale, ed ha lasciato cadere la memoria negativa, che è quella che tiene lo sguardo della mente e del cuore, fissato in modo ossessivo sul male, soprattutto se commesso da altri. Le sfide del momento, ha spiegato il Papa, richiedono però un costante impegno etico per attivare decisioni e relazioni sempre rispettose della dignità della persona. Gestire il fenomeno delle migrazioni, ha chiarito il Pontefice, richiede un supplemento di saggezza e misericordia per superare le paure e realizzare il maggior bene. Insieme all'aiuto agli migranti polacchi che vogliono tornare, il Papa ha chiesto disponibilità ad accogliere quanti fuggono dalle guerre e dalla fame. Lei è la solidarietà verso coloro che sono privati dei loro fondamentali diritti, tra i quali quello di professare in libertà e sicurezza la propria fede. Servono anche collaborazioni e sinergie a livello internazionale, al fine di trovare soluzione ai conflitti e alle guerre, che costringono tante persone a lasciare le loro case e la loro patria. Solo operando con intelligenza e continuità per la giustizia e la pace, ha concluso il Pontefice, si testimoniano nei fatti i valori umani e cristiani. Lasciato il cortile, il Papa e il Presidente Duda si sono incontrati privatamente nella sala degli uccelli.